Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video ASMR oggi ho deciso di fare un po' di suoni riguardanti i capelli e approfitto dell'occasione per sistemare questa parrucca che è la parrucca di Duga che non tocco da una vita ma da una vita proprio e già l'avevo un po' sistemata quando l'ho rifatta per la seconda volta perché la prima non l'avete mai vista la prima vera versione che ho fatto di Duga ma adesso voglio rifarla ancora un po' non so se meglio o peggio speriamo, incrociamo le dita perché non sono una parrucchiera allora parrucca fortunatamente questa è corta quindi si avrà qualche vetino ma non troppi come capita con le parrucche lunghissime ok allora abbiamo la parrucca adesso quando la metto sulla testina che la devo acconciare io qua vedete che c'è questo qui che sarebbe regolare la grandezza della rete interna io questo la sfilo dal da questa piccola asola faccio anche l'altra dall'altra parte in modo da poter unire i due ganci e non far cadere la parrucca mentre ci lavoro sopra spero mi sentiate perché ho messo il microfono un po' più ecco adesso l'ho avvicinato un po' più giù per farvi sentire qualche altro sui suoni della parrucca ok adesso leggo appunto qua sotto ok ok allora comincio a dare una spazzolata genita la parrucca Grazie a tutti Andrebbe anche un po' lisciata Volendo proprio fare i precisini Allora Metto un'immagine scusate Per l'altro mio nonno mi ha ceduto il suo ipad Questo è tipo uno dei premi ipad Infatti è pesantissimo Guardate che ho messo qua in copertina Da sai Piccicui carino Allora Prendo un'immagine Già possiamo fare Il giuffo sarà Questo lato qui Però è molto spesso Ma in generale anche la barrucca è un po' troppo lunga La taglio un po' dietro E la faccio un po' scalati Perché questi sono tutti pari Allora Questa Come si chiama? Mollettone Allora Questa è la situazione Vi devo darla un pochettino Allora Guardate un attimo Che controllo Come erano le ultime foto che ho fatto Quanto era lunga Cos'era Come non era Posso uscirla? Sì Ok Allora La devo tagliare un pochettino Non badate alla tecnica Perché non ho una tecnica Non sono una parrucchiera Quindi Allora Grazie. Per l'altro già di per sé questa parrucca è totalmente asimmetrica, quindi è complicato. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Spiacevole incidenti e vabbè divido un po' i capelli, faccio prima una parte dietro. Dopo pensiamo ai ciufi davanti e uso anche il termoprotettore. Grazie. 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 A presto. A presto. Direi che è meglio, molto meglio, adesso che riesci a sistemare alcune cose. A presto. 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 A presto.